Dunque, vieni a parlare qui a un attore di libri di un tuo libro, il tuo ultimo libro, è una raccolta di testi, forse in maniera simile a quello precedente, volevo chiederti se c'è un filo conduttore, che cosa li tiene insieme? Allora, sì, Massa per velocità, in realtà io amo dire che sono tre libri in un libro, nel senso che c'è, sì, come dici te, c'è anche la raccolta di testi che sono più o meno i reportage che ho fatto dal 2018 fino al 2020, però quella è solamente una parte, perché in realtà inizia con un diario della quarantena, la prima quarantena che ho fatto in Cina all'inizio del Covid, tra febbraio e marzo del 2020, quando ancora qui non si sapeva insomma bene, e poi c'è tutta la parte di un viaggio, un reportage lungo nella Cina profonda, in una delle contei più povere della Cina, dove appunto in quei giorni di giugno-luglio 2020 si stava concludendo la lotta contro la povertà fatta dal governo cinese, infatti a fine anno poi avrebbero detto di aver sconfitto dopo migliaia di anni la povertà nera in Cina. Quindi ci sono questi tre, diciamo, filoni narrativi che si mescolano in questo libro, questo oggetto letterario, adesso va di moda a chiamarle così. Diciamo che è un reportage lungo fatto di diversi pezzi. Le ha accennato, si chiama Massa per velocità, come mai? Si chiama Massa per velocità perché è la formula della quantità di moto, che è l'unica formula di fisica che ho capito più o meno quando andavo a scuola. Cioè sostanzialmente, ve la dico brutalmente, se due camion si scontrano alla stessa velocità di due macchine, fanno più casino i due camion, nel senso che la massa e la velocità si moltiplicano e quindi l'impatto è più devastante. Ora, la Cina è proprio questo. La Cina è questa grande massa che si è sviluppata con estrema velocità negli ultimi 40 anni, mettendo in moto dei processi che per forza di cose, Cina volente o nolente, impattano sul resto del mondo. Però poi quando si tratta di frenare, questo enorme Titanic ha sempre qualche difficoltà iniziale, però poi, in genere, a differenza del Titanic, quello vero, siccome ha alla guida un capitano piuttosto intelligente, nel senso che dai propri errori è capace di imparare ed ha avuto una certa capacità evolutiva negli ultimi 70 anni, cioè il partito comunista cinese, in genere riesce a correggere la rotta e a rinnestare altri processi epocali, diciamo così. Quindi massa per velocità mi sembrava un ottimo modo di descrivere, proprio in sintesi, in una formula fisica, la Cina. Aggiungo che mi sembrava che definisse bene anche un po' la fase che stavo vivendo, insomma quella del Covid, della mobilitazione di massa per combattere il Covid, mobilitazione di massa che poi è un po' il dispositivo tipicamente cinese, non replicabile altrove, con cui la Cina fa fronte a ogni situazione eccezionale. E qui mi lanci un po' verso le domande più complicate, quelle sulla Cina in generale, chiaramente non si può spiegare un paese in nessuna intervista, in nessuna centinaia di interviste, perciò volevo chiederti questo, secondo te c'è un elemento principale che generalmente da qui non capiamo della Cina, qualcosa che sbagliamo sulla Cina, un'idea che secondo te è troppo raffazzonata o proprio sbagliata rispetto a questo paese immenso. Sono innumerevoli le cose che non capiamo della Cina per un motivo molto semplice, che tendiamo a mettere le nostre lenti quando osserviamo la Cina. Per esempio, quando definiamo la Cina come nuova grande superpotenza, tendiamo a metterle addosso ai panni degli Stati Uniti d'America. Adesso ci sono gli Stati Uniti d'America, in futuro ci sarà la Cina, e pensiamo che sia uguale agli Stati Uniti, ma diversa nel senso che semplicemente è un altro paese. In realtà no, la Cina non ragiona come gli Stati Uniti, è diversa dagli Stati Uniti, non so se ci sarà una sostituzione imperiale, ma se qualora ci fosse anche noi vedremo un impero molto diverso da quello statunitense con la Cina. Ecco, tutte queste cose noi non le capiamo. Inoltre, diciamo che negli ultimi anni, con l'acquirsi della propaganda, propaganda da una parte e dall'altra, cioè per me è propaganda anche quella dei maggiori media di informazione atlantici, anglosassoni, ok? Con l'acquirsi della propaganda, tendiamo sempre più a vedere la Cina attraverso stereotipi, cioè proprio a perdere l'occasione di conoscerla un po' meglio. A volte la Cina stessa non vuole essere conosciuta bene, e questa è un po' la fatica sempre più grande che facciamo noi giornalisti, che siamo lì, almeno quelli in buona fede. Quindi, quello che ho da dire è che negli ultimi anni realmente si acuita ancora di più questo processo di appiccicare alla Cina dei nostri stereotipi, che non spiegano assolutamente nulla, e quindi si ballonzola dall'idea, da questa idea dello Stato autoritario, e quindi solo grazie al fatto che uno Stato autoritario riesce a imporre il lockdown alla gente, poi però di colpo invece cambia le circostanze, cambia la situazione, no? E allora si dice, si tira fuori l'altro stereotipo dello Stato disfunzionale, e quindi questo autoritarismo comunque non funziona il tutto semplicemente per tornare a dire che l'unico modello possibile è il nostro, delle liberal democrazie occidentali. Ma non è più così. Andiamo verso un mondo multilaterale, in cui dal mio punto di vista bisogna un po' riuscire ad accettarci nelle differenze. Secondo te c'è un po' di paura in tutto questo? Cioè la paura che effettivamente la Cina diventi il nuovo centro del mondo e che insomma questo cambiamento faccia molta paura? Assolutamente, c'è il terrore, c'è un terrore manipolato ad art, poi appunto da quella che è la pubblicistica occidentale, per il semplice fatto che abbiamo paura di perdere il nostro, parlo proprio come occidente, predominio globale, su quale si fonda sostanzialmente anche il nostro benessere relativo rispetto ad altre popolazioni, ad altri paesi. Voglio dire, un americano, basti dire questo, si critica tantissimo la Cina sull'inquinamento, le emissioni e così via. poi ovvio, vai a vedere, è chiaro, è vero, è vero, è vero, la Cina è il più grande emettitore del pianeta, poi però vai a vedere le emissioni pro capita e scopri che uno statunitense continua a emettere almeno il doppio di un cinese e credo 6-7 volte rispetto a un indiano. E insomma, finché sarà così, non riusciremo mai a fare i conti con questa nuova realtà, perché di una cosa sono sicuro, quelli là fuori non si fermano, non hanno intenzione di fermarsi perché noi gli diciamo ah, dovete fermarvi adesso, no, vogliono quello che abbiamo avuto noi, anzi forse vogliono anche di più questo inquietante, no? Però, come dire, a livello di consumi, a livello di benessere, non si fermano perché noi glielo diciamo e questo è un grande problema, quindi probabilmente dovremmo incontrarci a metà strada, però, insomma, non sono qui a formulare la salvezza del mondo. No, chiaro, chiaro. Un'altra domanda un po' complicata riguarda l'attualità. Diciamo che i due grossi motivi per cui la Cina è finita nelle nostre notizie di recente sono la gestione molto stringente della pandemia, soprattutto negli ultimi mesi, se confrontata con il resto del mondo, e anche l'alleanza che sembra ferma ma anche un po' tiepida della Russia. La domanda spero non sia troppo complicata. Sono due strade politiche che ti sembrano assolutamente in linea con quello che hai visto in Cina in questi anni o in qualche modo ti stanno sorprendendo? Beh, la Cina mi sorprende più o meno ogni giorno, tant'è vero che non faccio mai previsioni. Molti fanno previsioni, in genere non ci azzeccano, vanno avanti a farle per anni e anni finché poi quella cosa succede casualmente e allora dicono che loro l'hanno sempre detto. No, io non faccio previsioni. Diciamo che sì, chiaramente ci sono delle continuità. Le tue in realtà sono due domande in una perché ognuno dei due temi, c'è il Covid e diciamo la vicinanza maggiore o minore con la Russia sono già due argomenti enormi. Però per quanto riguarda il Covid posso dire questo in sintesi. Loro in questo momento, secondo me, stanno cercando di capire come uscire da questa situazione dell'azzeramento dinamico, che è la loro formula, quindi grandi lockdown e così via quando si verifica un focolaio, per ragioni economiche. Però l'azzeramento dinamico rimane la priorità numero uno. Questo almeno fino al ventesimo congresso del Partito Comunista Cinese, che ci sarà il prossimo autunno, che dovrebbe rilanciare Xi Jinping per altri cinque anni. Non possono dire di aver sbagliato finora, anche perché non hanno sbagliato. All'inizio la loro formula ha funzionato. Loro hanno cavalcato questo successo con la propaganda, perché poi hanno detto guardate da noi solo un miliardo e quattrocento milioni. Siamo stati i primi ad avere il Covid e guardate solo cinquemila poco più morti. Guardate quelli là, gli Stati Uniti d'America, un milione rotti di morti. Quindi noi rispetto il nostro modello rispettoso della vita umana, noi sì che ci teniamo. E i cinesi credono a questa cosa qua. Cioè non è pura propaganda del partito, anche perché si basa proprio sui numeri, cioè è oggettivo. Ora però di fronte a Omicron, che sappiamo è molto infettivo, è molto poco letale, stanno cercando di capire come aggiustare questa strategia. Vedremo che cosa faranno, anche perché l'economia, che è uno dei pilastri del consenso del partito comunista, comincia ad andare maluccio. Volevano arrivare a fine anno a 5,5%, già probabilmente non ci riusciranno, sarà massimo 4,8%, alcune previsioni dicono. Quindi vediamo un po'. Russia. Il matrimonio tra Russia e Cina è un matrimonio di interesse, non è un'alleanza, non sono alleati naturali, si pestano i piedi in tante parti, soprattutto nell'Asia centrale e in altre zone, quindi non è un'alleanza naturale. Però in funzione antinato e antistatunitense, in questo momento è assolutamente necessaria. Dopodiché la Cina, fin dal primo momento, ha, come dire, sottilmente preso le distanze dall'invasione di Putin. Questo proprio è evidente a chi conosce un minimo la Cina. Hanno da subito detto che il principio della salvaguardia e della sovranità nazionale per loro è intangibile, quindi non si invadono paesi. Però dall'altro canto hanno insistito a non condannare Putin, a non condannare la Russia, nel riconoscere le loro ragioni. secondo la formula dell'indivisibilità della sicurezza, l'hanno chiamata, e cioè la tua sicurezza non può andare a scapito della mia, fondamentalmente. Cioè se tu vuoi entrare nella Nato e il tuo vicino di casa si sente minacciato dal tuo ingresso della Nato, non ci devi entrare, non puoi massimizzare la tua sicurezza a scapito degli altri. Questa formula la stanno portando avanti, la stanno portando avanti e cercano un po' di barcamenarsi. Sulle sanzioni, pur condannandole, in qualche modo un po' le hanno rispettate, soprattutto per paura delle sanzioni di secondo livello sulle proprie imprese, però vedo che comprano materie prime, scontate dalla Russia. Beh, ma quello lo fanno tutti. Lo fa anche l'India, lo facciamo anche noi, tra virgolette. Quindi lo fanno tutti e è in interesse della Cina. Ci sono le priorità della Cina che sono soprattutto per esempio la sicurezza energetica, la sicurezza alimentare, e così via, su quelle non ci piove, insomma, quali siano le alleanze e l'equilibrio globale. Quindi non possiamo aspettarci che la Cina smetta così di comprare materie prime dalla Russia. Grazie mille. Grazie a voi.